Fumata bianca nella trattativa con GL Evenza per ospitare all'ingotto, sua sede tradizionale, il Salone del Libro. Secondo quanto appreso, in mattinata il circolo dei lettori ha raggiunto un accordo con l'associate francese che gestisce il polo fieristico. La 31 barra edizione della bookmesse potre contare anche sul padiglione 5, oltre ai padiglioni 1, 2 e 3 e alle sale convegni. Il canone di locazione, sempre secondo quanto appreso, si aggira sui 650.000 euro.